Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Ina 1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. E per traffico intenso Ina 11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola e rallentamenti tra Prato Oest e il Bivio per la 1. Segnalate poi code in entrata a Pistoia per incidente. Sulla FIPI lì traffico rallentato tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena a Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Per i lavori della linea 3 della tramvia a partire da oggi cambia l'incrocio tra controviale Strozi e via Ridolfi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!